signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale secondo appuntamento con la rubrica dello scrivere una quest che ha avuto un successo molto maggiore di quello che mi aspettavo francamente sono veramente contento perché sono arrivate un sacco di proposte francamente molto più di quelle che mi aspettavo volevo anche commentare le varie proposte nel video ma ne sono arrivate praticamente una dozzina sono molte più di quelle che si possono gestire razionalmente all'interno di un video senza farlo durare troppo quindi per questo video passiamo direttamente ai risultati se riesco però voglio far uscire magari durante la settimana un altro video a parte in cui faccio il commento a ogni singola proposta arrivata anche solo per ringraziare chi si è preso la sbatta chi si è preso l'impegno di mettersi effettivamente a scrivere una proposta per la quest in questo video invece andiamo avanti con il processo di creazione abbiamo fatto il brainstorming vedremo quali sono i risultati e vedremo di pianificare le cose per decidere quale sarà l'idea iniziale della nostra quest nel primo video vi avevo chiesto di proporre quale sarà il tema lo spazio e il genere della quest che andremo a scrivere assieme come sempre metto il link qua in alto allo scorso video per chi è arrivato adesso e dovesse andarselo a recuperare o chi non se lo ricorda più come ho detto di proposte ne sono arrivate tante quindi non perdiamo tempo andiamo a vedere quali sono stati i risultati finali e andiamo a vedere quali saranno alla fine il tema lo spazio e il genere della quest che scriveremo tutti assieme per quello che riguarda il tema sono arrivate le proposte più disparate da carstein che propone temi di attualità sociali a gianni che cerca di barare e ribaltare la votazione popolare farsi risuscitare leggendo tutte le proposte però quello che sembra essere il più gettonato è il tema dello scontro sociale soprattutto per quello che riguarda lo scontro tra differenti fazioni con differenti ideologie dominanti quindi diciamo che sarà quello il nostro tema principale tra l'altro a riguardo si è venuta a creare un'interessante discussione nei commenti tra gianluca vecchi e metallo devasto sul fatto che inserire troppe fazioni all'interno di una quest rischierebbe di allungare troppo i tempi e far disperdere il filo narrativo e che quindi sarebbe un'idea migliore per una campagna e non per una singola quest cosa che effettivamente è vera ma come vedremo dopo nel nostro caso questo problema non si pone per quanto riguarda lo spazio universalmente è stato proposto un ambiente urbano quindi ci atterremo a questo anche in questo caso le idee proposte effettivamente hanno le più diverse dalla città di brea nella terra di mezzo roma fino a una colonia spaziale isolata su un pianeta remoto ma praticamente quasi tutti hanno scelto un ambiente chiuso e circoscritto di natura urbana c'è stata anche una proposta per ambientare l'intera quest in un singolo edificio però diciamo che la nostra quest si svolgerà in una città ovviamente sapere questo non basta adesso bisognerà decidere quale sarà questa città dove si troverà e soprattutto quale ruolo avranno i vari gruppi di interesse all'interno dell'economia urbana di questa città ma è una cosa che dovremmo decidere successivamente per quanto riguarda il genere le scelte si fanno un attimo più complesse la maggior parte delle proposte riguardava i fantasy nelle sue varie declinazioni però quasi altrettanta gente ha detto che voleva evitare storie con una morale dicotomica di bene contro male o ha esplicitamente detto di voler inserire dei toni di grigio all'interno della morale della quest quindi di tutte le declinazioni del fantasy l'eroic fantasy che è la più comune e da escludere a priori a questo punto però tutte le altre proposte riguardavano o quello di mischiare il fantasy con il racconto giallo racconto del mistero o di utilizzare elementi della fondamentalmente della letteratura steampunk o cyberpunk considerando che se vogliamo mettere tutte queste cose assieme avremmo un racconto fantasy con elementi tecnologici ma con una moralità molto più gretta e basata su una morale più labile questa fondamentalmente è la definizione da manuale del genere dungeon punk quindi fondamentalmente il genere della nostra quest sarà quello tra l'altro nei commenti sono state esplicitamente citate sia eberron che ravnica che sono fondamentalmente le due ambientazioni dungeon punk per antonomasia perfetto la nostra quest sarà quindi un giallo dungeon punk in cui si dovrà esplorare il tema della fiducia reciproca e lo scontro culturale tra gruppi di interesse sicuramente questo non è sufficiente a creare una storia intera ma sarà fondamentalmente la frase che useremo come riferimento per valutare ogni altra idea e ogni altro sviluppo possibile durante la stesua della quest sarà fondamentalmente la nostra ancora di riferimento bene adesso però bisognerà decidere cosa succede effettivamente all'interno di questa quest la nostra idea iniziale dice che la quest sarà un giallo e la caratteristica del giallo è quella in che i protagonisti devono indagare su un qualche delitto un omicidio qualcos'altro e nella sua conclusione il delitto dovrà essere risolto e il responsabile del delitto dovrà essere perseguito consegnato dalla giustizia o ammazzato questo cosa sarà effettivamente il finale dipenderà anche dagli altri canoni e abbiamo detto che il canone della nostra quest è il dungeon punk quindi in qualche modo questo delitto drova a riguardare sia dei temi di hard-boiled cinismo ma anche la commissione tra la tecnologia e la magia che sono fondamentalmente i canoni del genere dungeon punk in più dato che il nostro tema è quello della fiducia sfiducia e del contrasto tra gruppi di interesse anche questo dovrà essere in qualche modo preso in considerazione e fondamentalmente esplorato nel corso della quest i personaggi dovranno trovarsi in delle situazioni in cui la presenza o l'assenza di fiducia e il contrasto tra gruppi di interesse sia rilevante per quello che sta succedendo nella scena il fatto che la quest sarà un giallo va a risolvere anche il dubbio che aveva presentato metallo devasto se effettivamente ai giocatori fosse richiesto di scegliere una fazione cioè di decidere se schierarsi dalla parte di uno dei gruppi di interesse questi gruppi di interesse dovrebbero essere presentati in maniera molto dettagliata e sarebbe meglio che ognuno di loro avesse una sua storyline per far capire ai giocatori e fargli fare una scelta informata su quale sia la fazione per loro migliore ma nel nostro caso specifico i nostri gruppi di interesse dovrebbero essere tutti dei potenziali indiziati per il delitto che è al centro del giallo di conseguenza non ci sarà una fazione con cui i giocatori devono schierarsi e una delle caratteristiche di tutti i generi punk è proprio l'assenza di una parte che abbia esplicitamente ragione perché normalmente tutte le fazioni sono presentate attraverso toni di grigio di conseguenza non dovendo avere una fazione dei buoni mettiamola così e non essendo previsto che i giocatori debbano effettivamente schierarsi con qualcuno le varie fazioni vari gruppi di interesse che si scontrano possono essere presentati in maniera relativamente più abbozzata al di là di qual è la loro ideologia dominante permettendoci di presentarli in maniera più veloce e quindi risolvendo così il problema di avere più di due gruppi di interesse contemporaneamente e non c'è la necessità che se uno sia effettivamente preferibile agli altri anzi più questi gruppi di interesse sono in una sorta di virtuale equilibrio della ragione tra di loro meglio sarà per la riuscita della quest per quello che riguarda voi quando scrivete la vostra quest per il vostro tavolo considerate tutte le idee che sono state proposte nello scorso video al pari della massa di idee che i vostri giocatori anche voi stessi tirereste fuori nel momento in cui decidete di proporre una nuova quest al tavolo io per decidere il pitch della storia per questa rubrica ho fondamentalmente preso in considerazione qual è stata la maggioranza dei voti per le varie idee proposte e ho proceduto con quello per il video di questa settimana allo stesso modo quando voi proponete qualcosa al tavolo dovreste sempre cercare di fare in modo di accontentare la maggior parte dei giocatori presenti integrando la maggior parte delle cose che sono state proposte anche se magari la vostra idea di partenza era qualcosa di molto diversa ma i giocatori hanno dimostrato di non apprezzarla particolarmente e hanno proposto qualcos'altro ovviamente questo non vuol dire che le idee che non sono state accettate dalla maggioranza siano da buttare anzi nel nostro caso per esempio ci sono state un paio di proposte per temi ambientalistici e anche un altro paio per temi horrorifici soprattutto per quanto riguarda la malattia le mutazioni diciamo il body horror da carpenter le proposte sono state poche quindi io per questo video non le ho prese in considerazione ma questo non vuol dire che queste idee non possano essere riciclate più avanti per inserire delle sottotrame o dei temi minori o magari per una quest successiva a quella che in questo momento stiamo scrivendo per voi va è la stessa cosa un'idea che inizialmente è stata scartata per essere il tema principale della quest o il genere principale della quest potrebbe comunque essere riciclata più avanti una quest fortemente d'avventura e d'azione non necessariamente non debba avere dei momenti in cui magari c'è una parte di mistero e in una storia come nel nostro caso che sarà un giallo non è detto che non ci saranno momenti in cui i personaggi dovranno vivere delle scene d'azione bene adesso sta a voi abbiamo il nostro pitch scrivete sotto nei commenti come per l'altro video quale secondo voi sarà l'idea iniziale migliore per la quest quale sarà fondamentalmente la storia che dovrà essere raccontata in questa quest non è necessario scrivere l'intera sinossi della quest anzi a livello di idea iniziale bisogna sempre tenersi stringati perché poi sicuramente questa verrà modificata da tutto lo sviluppo della quest successivo però visto il nostro genere il nostro canone di riferimento quello che deve sicuramente essere deciso adesso nella fase iniziale è essendo un giallo qual è il delitto che è stato commesso dato che si tratta lo scontro di fazioni quale saranno queste fazioni quante ce ne saranno e quali saranno le loro ideologie principalmente su che cosa si staranno scontrando a livello ideologico saranno fazioni politiche fazioni di identità culturale estremisti religiosi e ovviamente bisognerà anche decidere adesso per quale motivo i giocatori verranno coinvolti all'interno di questa storia come ho già detto nello scorso video non siate timidi più idee arrivano meglio vengono i video meglio vengono i video meglio viene la quest meglio viene la quest meglio è per voi che questa quest ve l'ascoltate quindi scrivete non preoccupatevi se non vi sembra che la vostra idea sia particolarmente originale l'originalità arriverà dopo e sicuramente sarà frutto dell'unione di varie proposte che sono magari la vostra idea potrebbe essere banale scrivetela lo stesso sarà comunque la base per una modifica successiva non vi preoccupate neanche se non avete un'idea totale dell'idea iniziale magari avete una buona idea per qual è il delitto ma non sapete quali fazioni introdurre o viceversa scrivete quello che vi viene in mente quello che manca dalla vostra idea verrà preso dall'idea proposta da qualcun altro e così la modellazione della storia andrà avanti che poi è proprio lo scopo di questi video di scrittura collaborativa ovviamente se avete domande dubbi perplessità scrivete anche quello e scrivete se avete delle idee migliori su come gestire la cosa o proposte interessanti su che cos'altro si potrebbe fare in questa serie sia adesso sia dopo se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo al prossimo video